C'erano anche gli schermi, questo è la scelta che si stanno inserendo. Siamo in una città, si stanno in una sorveglianza. Allora, vi invito a venire 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 a venire. Siamo in una città, è stato tagliato tutto il fondello. Allora, guarda, adesso sta zoomando la telecamera di Piazza della Repubblica. La risoluzione consente di vedere anche la telecamera.